Sequestro da mezzo milione di euro nei confronti di un commerciante di Eboli che vendeva autofantasma. I finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno concluso le indagini nei confronti del titolare di un autosalone ad Eboli contro cui sono state sporte decine di denunce dai clienti vittime di truffa. In particolare questi ultimi hanno anticipato in tutto e in parte il corrispettivo convenuto per l'acquisto di auto di cui tuttavia non sono mai entrati in possesso. Gli accertamenti sono partiti dopo l'esposto di una donna che ha riferito di aver consegnato al 38enne di Eboli contanti per circa 1000 euro a titolo di acconto per l'acquisto di un utilitario che sarebbe dovuto arrivare dall'estero. Anche dopo i ripetuti solleciti la maccapitata non era riuscita a farsi consegnare l'auto né il denaro anticipato. Dagli accertamenti sono emersi una trentina di episodi analoghi. In un caso addirittura è stata configurata una vera e propria estorsione ai danni di un cliente che dopo aver pattuito il corrispettivo di 43.000 euro per l'acquisto di un Range Rover Sport è arrivato a consegnare alla fine in più tranche un totale di 60.000 euro ogni volta dietro la minaccia di perdere le somme che aveva anticipato. Concluso le indagini coordinate della Procura di Salerno è arrivata una prima condanna per truffa da parte del locale e tribunale. Nel frattempo la Guardia di Finanza ha avviato un intervento mirato per recuperare a tassazione anche i proventi della presunta attività illecita. Proprio per garantire i crediti vantati dal fisco il GIP del Tribunale di Salerno ha adottato un provvedimento di sequestro preventivo al quale hanno dato esecuzioni finanziarie di Eboli sottoponendo a vincolo cautelare due immobili, due terreni agricoli, disponibilità finanziarie e 40 auto ancora in possesso dell'indagato per un totale di 530.000 euro.